Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto e agli aggiornamenti. Drammatico incidente stradale a Sandona di Piave. Due giovani, Alessandro Polato di 23 anni e Maria Chiara Guida di 20 anni hanno perso la vita in seguito a un terribile incidente accaduto nella serata di domenica intorno alle 20, poco distante dal ponte della Vittoria in via Lungo Piave Superiore. L'auto sulla quale viaggiavano i ragazzi è finita fuori strada andando a finire con violenza contro il guardrail. Subito chiara la gravità dello schianto. In quel punto l'asfalto era bagnato a causa delle condizioni meteo avverse. Finita in tragedia quella che doveva essere una spensierata serata tra amici. Altri tre passeggeri a bordo dello stesso veicolo sono rimasti feriti e sono stati presi in cura dal personale sanitario. Dopo le operazioni dei vigili del fuoco che hanno portato all'esterno dell'abitacolo gli occupanti dell'auto. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare la vita di Maria Chiara e Alessandro che erano seduti sul sedile posteriore dell'automobile. E adesso andiamo a Montegrotto Terme in provincia di Padova caduta di un pino marittimo nella notte su due automobili. Fortunatamente nessun ferito ma sentiamo la ricostruzione di quello che è successo. Nella tarda notte tra domenica 8 e lunedì 9 gennaio un pino marittimo di grandi dimensioni è finito sopra due automobili parcheggiati in via alle stazioni a Montegrotto Terme. Prontamente avvisati i vigili del fuoco che arrivati da Abano Terme hanno subito verificato che non vi fossero persone all'interno dei mezzi e nell'area circostante coinvolta dall'improvvisa caduta. Fortunatamente, data forse anche la tarda ora, nessuna persona è rimasta ferita. Successivamente si è provveduta a liberare dai rami del pino le due auto e la strada che è rimasta completamente ostruita per qualche ora. Terribile incidente sui binari poco dopo le 18 di domenica. Una donna veneziana è stata investita dal treno in transito all'altezza di Marghera tra le stazioni di Maestre Venezia Santa Lucia. La donna stava camminando al buio lungo i binari della linea ferroviaria Padova-Venezia. Il treno ad alta velocità ha colpito solo parzialmente la donna che fortunatamente non versa in pericolo di vita. L'ultra settantenne veneziana ha riportato però una brutta frattura alla gamba ed è stata soccorsa e trasferita in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della squadra intervenuta che dovrà valutare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. La tratta ferroviaria ha subito gravi disagi e Trenitalia ha comunicato ritardi fino a 50 minuti. Andiamo adesso a Selvazzano in provincia di Padova per parlare dello scontro tra due automobili. Il bilancio è di una persona rimasta ferita al servizio. Alle prime luci della mattina di oggi, lunedì 9 gennaio, ha avuto luogo un terribile incidente stradale a Selvazzano. Due auto si sono scontrate in via Veneto, all'altezza dell'incrocio con via Scappacchio. Uno dei due mezzi si è completamente rovesciato sulla carreggiata. Rimasta ferita la persona che si trovava all'interno dell'auto capovolta, illeso invece l'altro automobilista. Immediato l'allarma ai vigili del fuoco, che arrivati da Abano Terme hanno messo in sicurezza i mezzi ed è estratto dall'auto rovesciata una donna, che è stata presa in cura dal personale sanitario del 118 per poi essere trasferita in ospedale. Sul posto anche la polizia stradale per la deviazione del traffico e rilievi del sinistro. Nella giornata di domenica, un 46enne residente a Romano Dezzelino in provincia di Vicenza è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia compiuti ai danni della moglie e della figlia della donna. Comportamenti messi in atto tra il 2019 e il 2021 a Loreggia nel Padovano. L'uomo è stato rintracciato nell'abitazione della sorella e ora dovrà scontare una pena complessiva di due anni e sei mesi in seguito a un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova. L'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Vicenza. Dobbiamo parlare ancora di incidenti stradali, questa volta andiamo a Montecchio Maggiore, schianto contro il guardrail, ferito il conducente di un mezzo. Evitata per poco la tragedia lungo la tangenziale 246 all'altezza dell'uscita per il centro di Montecchio Maggiore. Ferito il conducente dell'auto che poco prima delle 21 di domenico 8 gennaio è finita contro la cuspite del guardrail. Subito allarmati i vigili del fuoco, che arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza l'auto e collaborato con il personale sanitario del suo ema a soccorso del conducente, stabilizzato e trasferito in ospedale con un codice di media gravità. Sul posto anche i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. E adesso parliamo di territorio, il passato e il futuro di Etra. Con un anno eccellente alle spalle si individuano nuove prospettive e obiettivi. Allora cerchiamo di sentire nel prossimo servizio di approfondimento un bilancio, una fotografia dell'anno che si è appena chiuso e quali sono gli obiettivi futuri. Consolidare l'eccellenza e continuare nel percorso di crescita intrapreso. È questa in sintesi la mission di Etra per il 2023, anno che si preannuncia ricco di nuove iniziative, investimenti e riassetti della Multi Utility. Questo grazie a un ottimo 2022 che ha permesso di consolidare la struttura con una squadra manageriale compatta e di alto profilo che ha visto l'inserimento di nuovi dirigenti selezionati sulla base di professionalità ed esperienza. Ha permesso di ampliare l'organico con nuove assunzioni e di investire circa 75 milioni di euro in nuove reti, servizi e adeguamento degli impianti, come ci spiega il presidente Frassonna. Ormai il 2022 è andato, è stato un anno difficile da molti punti di vista ma anche entusiasmante. L'abbiamo chiuso in maniera scoppiattante con l'affidamento in house del servizio ambientale da parte dei soci e quindi garantendo al nostro territorio una tranquillità per i prossimi 15 anni e soprattutto anche i nostri dipendenti. Il 2023 ci vedrà impegnato nella realizzazione di importanti investimenti nel settore ambientale soprattutto sulle sedi logistiche perché noi dobbiamo avere sedi all'altezza dei tempi ma anche nel settore idrico con tutti i progetti PNRR che abbiamo presentato che indipendentemente dai fondi PNRR comunque realizzeremo in ogni caso. Ecco, tra l'altro voi su questo avete puntato moltissimo anche per risolvere il problema delle perdite idriche che sono un problema per molte famiglie del territorio. Sì, stiamo intervenendo in diverse maniere. Tenga presente che il nostro progetto è stato presentato al Festival dell'Acqua a Torino come progetto pilota a livello nazionale. Ecco, possiamo dire che ETRA comunque esce dai confini del Veneto e viene presa anche ad esempio per altre realtà del territorio italiano. Sì, noi abbiamo un ufficio nostro che si chiama Sintesi che diventa un ufficio di consulenza per molte realtà italiane. Recentemente abbiamo saputo che abbiamo vinto la gara per l'aggiornamento del piano rifiuti della città di Rimini. Il 2022 si è chiuso con un accordo importante affidato a ETRA dal Consiglio di Baccino Brenta per i rifiuti. Abbiamo affidato proprio recentemente per i prossimi 15 anni in house, la gestione dei rifiuti per 70 comuni soci di ETRA. Inizia un anno in cui si deve lavorare insieme e si deve cercare di raggiungere gli obiettivi. Quest'anno sarà dedicata una tariffa puntuale. Che cosa significa? Significa raggiungere la differenziata e quindi la riduzione del secco non riciclabile per tutti i cittadini dei 70 comuni, quindi per 500.000 abitanti. Un'unica tariffa significa chi inquina paga, ma tutti quanti dobbiamo cercare di limitare al massimo il nostro inquinamento. 2023 obiettivi importantissimi per il territorio? Sì, è un 2023 che un po' ricalca quello che è il 2022 dove ci siamo resi conto che per ETRA la risorsa idrica è una risorsa importante. Pur essendo noi in un territorio ricco d'acqua ci siamo accorti che la risorsa deve essere tutelata. Quindi come Baccino abbiamo lavorato in maniera importante sulle aree di salvaguardia, quindi sull'andare a tutelare tutte quelle aree da dove si va a prelevare la risorsa idrica e soprattutto potenziando gli investimenti su quella che è la riduzione delle perdite idriche dell'acquedotto. Quindi un investimento di circa un milione di euro con fondi propri del Baccino, mentre una richiesta importante di circa 20 milioni sui fondi del PNRR è che stiamo in attesa però di ricevere risposta. Ecco, c'è un altro progetto che è stato presentato nei mesi scorsi realizzato in collaborazione con l'Università anche per tenere un monitoraggio costante della qualità dell'acqua. Sì, l'acqua è una risorsa fondamentale e l'utilizzo della risorsa deve essere fatto in maniera sicura. Noi non possiamo permetterci che avvengano o ritornino casi come la galvanica di Tezze o come la questione dei FAS nella zona del Vicentino. Quindi il monitoraggio delle acque e degli inquinanti in particolare anche di quegli inquinanti che magari non sono conosciuti è fondamentale. Le aree di salvaguardia servono a questo. Servono per capire anche quanto un eventuale inquinante ci metta ad arrivare poi al punto di prelevo dell'acqua in modo da riuscire ad attivare tutti quei sistemi per andare a proteggere i cittadini. Qui però nasce un discorso importante che è quello dei pozzi artesiani, quello dei pozzi dei privati che purtroppo molti sono scavati a profondità non elevate quindi i 5, 10, 15 metri pescano quindi la faglia di superficie e rischiano di essere inquinati. Quindi il richiamo è a chi utilizza questi pozzi di andare a risparmiare sull'utilizzo dell'acqua perché anche se l'acqua sembra essere illimitata non lo è e poi di fare i dovuti controlli presso i centri specializzati, le nostre AES. Sviluppo, crescita e consolidamento sono gli obiettivi di Etra. I primi passi sono già stati fatti perché abbiamo mandato alla gestione di poter procedere con il superamento del sistema duale dove comunque verrà garantita la presenza dei sindaci, la sorveglianza, un controllo analogo ma un superamento per rendere Etra dal punto di vista burocratico e gestionale sicuramente più snella. Contiamo di terminare questa fase importante di nuova Etra nel giugno 2023 e poi tanti progetti legati alla scuola, all'università un ottimismo generale che ha fatto sì che la fiducia dei sindaci potesse essere confermata con due grandi risposte. La prima è quella di lasciare gli utili nella società per poter fare investimenti nel territorio investimenti che si stanno già facendo con gare che si sono già consolidate che daranno i primi frutti già a partire dalla metà del 2023 e l'altra quella di affidare ad Etra per 15 anni la raccolta di fiuti quindi il vaccino d'ambito ha lasciato con tutti i sindaci d'accordo questa grande opportunità in house a questa azienda che è fatta da sindaci. Come da previsioni nuove nevicate in montagna sulle Dolomiti Venete con circa 25 cm di accumulo nelle aree dai 2000 metri in su anche a Cortina e Asiago un manto bianco perfetto per le settimane a venire che continueranno a vedere le piste affollate di sciatori e appassionati dei percorsi con le ciaspole ed ora uno sguardo alle condizioni climatiche previste sull'intero territorio Veneto sta transitando da ovest verso est la parte più meridionale di una depressione con nucleo a nord della Gran Bretagna circolazione anticiclonica domani poi avvicinamento da nord-ovest di un'altra depressione che transiterà tra mercoledì sera e giovedì mattina portando altre precipitazioni successivamente però la pressione sarà in aumento fino al pomeriggio di domani le temperature saranno ancora sopra la media anche di molto poi le temperature saranno non distanti dalla media del periodo è tutto per questa edizione ringrazio tutti voi per l'attenzione vi invito a rimanere con noi tra poco l'appuntamento è con Italpress e tante altre notizie dal nostro territorio e alle 21 vi ricordo anche l'appuntamento con lo sport buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti